Semplificare, sburocratizzare e innovare le professioni intellettuali in Toscana. Questi temi portati dall'assessore regionale alla presidenza Vittorio Buglia all'incontro organizzato dalla regione con la Commissione regionale dei soggetti professionali all'auditorium di Santa Pollonia a Firenze. In platea i rappresentanti di un mondo che conta in Toscana 103.000 professionisti, tra avvocati, medici, consulenti del lavoro, commercialisti, solo per citarne alcuni, a cui è stata rivolta una domanda precisa. Quali sono le dieci cose più importanti su cui occorre semplificare? Queste, bene, intanto lavoriamo a queste, risolviamo queste e poi passiamo alle ulteriori dieci. Questo è quello che io ho proposto oggi e che credo si debba fare. Dall'altro però, attenzione, perché non può essere solo questo. Da questo mondo deve venire un valore aggiunto anche per le sfide future. Sfide future da valutare anche sulla base dei dati della ricerca affidata all'IRPET, l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica in Toscana, nell'ambito dell'Osservatorio delle Professioni. Dal 2008 a oggi ci sono 23.000 professionisti in più. La Toscana, essendo un territorio di piccole imprese, le piccole imprese hanno maggior bisogno di rivolgersi a attività dei libri professionisti. Ne abbiamo 28 per ogni 1.000 persone contro 24 per ogni 1.000 persone dell'Italia. L'Europa ne ha molti meno, quindi già l'Italia è caratterizzata da forti presenze, la Toscana ancora di più. Anche in Toscana la crescita occupazionale è stata particolarmente consistente in questo ambito.